Eros Ramazzotti in Vaganza alle Maldive con la figlia Aurora gli dedica più volte delle fotografie. Amarti è l'immenso per me. Che botta di sole che c'è! Visto che il tempo non è dei migliori si mettono a giocare alla corsa dei paguri. Il più cattivo è il piccolino. Bellissimo rapporto tra padre e figlia. Grazie per la visione!